via, 1,2,3, ci siamo? siamo qui con Luciano, è stato eletto che c'è il campo Sky, ti volevo riedere perché dopo due minuti sei uscito dal campo, ti sei collassato sul platino, ha acceso il cicchino, non fa vita sana capito, mi devo rifigliare, visualizzi me o le fighe dietro, comunque grande vittoria della Mesopotamia, 6 punti, e andremo a vincere il torneo, partita finita quanto? 5 o 6 a 0, qualcosa di genere, comunque sei d'accordo sul peggio del campo Sky? sicuramente, non ci metto più le mani, bene che cambi sport, dall'Arena Cirofolini è tutto, grazie, arrivederci